Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come ho detto dal titolo a grande richiesta e come promesso vi porto la top 10 dei migliori veicoli del 2024 che dovete assolutamente avere su GTA Online come al solito prima di iniziare mi raccomando di iscrivervi al canale visto che più del 50% di voi guarda i video senza essere iscritti come vedete appena c'è una novità su GTA Online vi porto subito i video anche su GTA 6 quindi passate al canale più grandi in Italia per trovare i giocatori quindi se cercate una community c'è il gruppo Telegram in descrizione quindi partiamo subito col primo veicolo ovviamente non è in ordine è una classifica personale insomma tutti quei discorsi là ve li evito in ogni caso ho chiesto anche consigli sul gruppo Telegram e più o meno sono questi i veicoli che la community preferisce però ovviamente è una classifica personale ci tengo a ricordarvelo quindi primo veicolo che dovete assolutamente avere l'Oppressor MK2 come vedete si compra dal sito di Warstock potrebbe fluttuare col prezzo durante l'anno visto che l'anno scorso avevano aumentato il prezzo poi era diminuito insomma la scontano di rato comunque ragazzi è un veicolo che dovete assolutamente avere come vedete è estremamente modificabile per quanto insomma possiate modificare una moto volante è comoda perché ci fate tutte quante le missioni e una volta che avete comprato questo veicolo utilizzerete solo questo veicolo e ovviamente potete installarci varie armi come ad esempio i missili non guidati i missili guidati e ovviamente la mitragliatrice non vi sto neanche a spiegare il perché installarci i missili guidati sia la scelta migliore perché appunto vi aiuta comunque a fare anche le varie cacce al tesoro e a uccidere vari giocatori a completare le missioni vi attacca direttamente la gente voi sparate e basta quindi è veramente un veicolo perfetto sia per chi sa giocare a GTA Online sia per chi non sa effettivamente giocare perché è veramente comodo quindi ragazzi assolutamente da comprare ma non ne comprate solo una comprate neanche due o tre perché veramente sono comodissime oltre al fatto che la richiedete comodamente dal presidente Motorcycle Club quindi veramente top veicolo secondo veicolo che vi consiglio è un veicolo storico di GTA Online è la Kuruma blindata aggiunta quasi credo 8 anni fa insomma comunque è un veicolo che trovate nella sezione 5 porte del sito San Andreas come vedete scendete qua e trovate la Karin Kuruma blindata da non confondere con la Karin Kuruma normale perché è quella senza blindatura allora la Karin Kuruma blindata come vedete costa mezzo milione di dollari viene spesso scontata quindi vi consiglio di tenerci un occhio magari controllatevi i video del giovedì mattina che escono ogni giovedì sul canale in cui vi faccio vedere gli sconti che Rockstar inserisce settimanalmente e normalmente scontano questo veicolo quindi anche del 40% quindi fate attenzione è un veicolo che ovviamente non resiste a eccessivi mine, missili e cose del genere se beccate un oppressor insomma difficilmente la scampate però per fare le missioni soprattutto se siete nuovi giocatori è un ottimo veicolo per il semplice fatto che è blindato potete sparare siete praticamente immortali contro polizia e NPC quindi gente non effettivamente giocatori normali perché un giocatore normale vi può tranquillamente uccidere prendendo insomma un paio di razzi quindi comunque veicolo assolutamente da comprare almeno a mio avviso poi abbiamo la Toreador che è un veicolo che hanno aggiunto con i colpi a caio perico e vi consiglio di acquistarlo se siete in dubbio tra la Stromberg e la Toreador io sono del team Toreador, molti diranno Stromberg io ragazzi vi consiglio la Toreador e non sono l'unico costa come vedete 4.250.000 dollari la potete comprare sul sito di Warstock come vedete eccola qui non è un veicolo Pegasus quindi lo potete mettere all'interno dei vostri garage e tra l'altro lo potete inserire anche direttamente nel Cosatka che sarebbe il sottomarino con cui fate i colpi a caio perico quindi vi ripeto veicolo assolutamente da comprare adesso vi faccio vedere il motivo intanto è velocissimo perché ha un boost che si ricarica in automatico quando lo guidate quindi vi basterà premere L3 se siete appunto su console e su PS e su Playstation ovviamente e quindi ci sarà questo boost che vi permetterà di andare velocissimi ovviamente arriva direttamente con missili e mitragliatrice integrata quindi potete scegliere voi cosa inserire a livello di modifiche la potete modificare nell'Avenger nel Cosatka addirittura quindi insomma vedete voi non è effettivamente la migliore a livello di modifiche però può fare questa cosa che vi sto facendo vedere adesso sempre su Playstation tenendo premuto freccia a destra quando entrate in acqua diventa un veicolo sottomarino quindi potete anche attivare il radar e trovare quelle casse forti, quelle casse nascoste che avete visto in basso la mappa che vi danno tipo 10.000 dollari quindi è un'attività secondaria che potete fare con i sottomarini oppure con la Toria d'Or e vi permetterà di fare veramente diciamo una buona quantità di soldi giornalmente quindi vi consiglio di comprarla anche per questo motivo oltre al fatto che vabbè è veramente utile altra moto infatti passiamo la moto troviamo sul Legendary Motorsport nella sezione motociclette la Shih Tzu Akushu Drag come vedete costa meno di un milione di dollari e per me è una delle mie moto preferite ovviamente ma per me rimane una delle moto migliori del gioco anche se non è la più veloce su All Gen infatti su All Gen ci sono altre moto più veloci se siete su Next Gen la comprate e la modificate da AO diventa la moto più veloce del gioco e diventa veramente tra i veicoli più veloci del gioco e tra l'altro potete farci queste prove a tempo di AO se siete su Next Gen che vi danno 200.000 dollari e cambiano ogni giovedì e le completate al primo tentativo quindi assolutamente da fare se siete su All Gen la potete utilizzare anche per fare le prove a tempo normali anche se siete insomma su Next Gen con la versione di AO e veramente le completate e vi rifate i soldi subito quindi questa moto si paga da sola e vi consiglio di comprarla se non ce l'avete visto che molti la snobbano per qualche motivo ma ragazzi secondo me anche a livello di stabilità è la migliore si guida benissimo pur essendo veramente molto molto veloce perché se la portate da AO potete come vedete inserire le modifiche ai motori e renderla un razzo quindi veramente è un veicolo velocissimo come vedete anche su Pioggia e con le modifiche di AO diventa vi ripeto un razzo quindi utilissima per fare le prove a tempo se le fate che comunque vi consiglio di farle perché sono soldi extra che Rockstar vi permette di fare settimanalmente e con questa Acucio Drag è una passeggiata il veicolo che è praticamente un veicolo segreto visto che normalmente non è acquistabile è la Paragon R però la versione armata infatti non molti hanno questo veicolo perché per avere questo veicolo a meno che non lo compriate appunto da altri giocatori tramite l'autoraduno ve lo facciate passare con qualche glitch lo sbloccate solamente completando le 5 missioni del Casino quindi sarebbero le missioni della storia del Casino non il colpo al Casino completate le missioni di Agatha Baker dopo che avrete comprato l'attico di lusso del Casino ci saranno insomma queste 5 missioni alla fine della quinta missione vi regaleranno appunto questa Paragon R armata non è ovviamente velocissima non è tra le più veloci del gioco se la cava però secondo me è molto bella esteticamente e vi ripeto se fate missioni e giocate molto così per cazzese gioco su GTA Online è utile perché è una Kuruma un po' più veloce certo non è resistente come la Kuruma non resiste a missili, razzi eccetera eccetera insomma resiste poco molto poco anzi però comunque è un'auto sportiva blindata meglio di così ragazzi è anche bella esteticamente questa qui vabbè tralasciate che è moddata e ce l'ho da un po' di tempo però insomma è un veicolo da sbloccare secondo me quindi è anche diciamo unica perché non la potete comprare e basta la potete sbloccare tramite quelle missioni altro veicolo se siete su old gen soprattutto ve lo consiglio se siete su next gen secondo me è comunque da comprare rimane un must per me su GTA Online è la Paria come vedete la trovate nella sezione tre porte di Legendary Motorsport del sito e costa 2 milioni e 400 cioè scusate 1 milione e 400 mila dollari certo non è un prezzo elevatissimo se considerate i prezzi che ha inserito Rockstar di recente però secondo me è un buon prezzo insomma per i veicoli di GTA Online soprattutto per la Paria che rimane una delle migliori a livello di top speed quindi di velocità massima quindi se volete un veicolo per fare gare secondo me la Paria non è da sottovalutare certo se poi prendete che siete su next gen e avete contro gente che ha le modifiche di AO ovviamente sarà più lenta la Paria ma mi sembra logico visto che le modifiche di AO permettono al veicolo di andare molto molto più veloce quindi la Paria secondo me è da comprare e magari anche da utilizzare in quelle gare che non hanno i veicoli di AO quindi se volete una buona macchina a me poi piace esteticamente vi ripeto una classifica personale secondo me è da comprare qui tralasciate che è inguitabile per il semplice fatto che ci ho messo le ruote da drift perché volevo provare a fare una cosa e mi sono dimenticato di levarle però comunque come vedete si controlla discretamente anche con le ruote da drift quindi pensate senza è veramente un ottimo veicolo passiamo poi alla BF Weevil vi dico che questo veicolo è effettivamente il più veloce con insomma quello che ha il top speed addirittura davanti alla Paria però solamente su all gen quindi è da comprare secondo me sì ragazzi anche per il meme su next gen come vedete si compra dal sito di Benis sarebbe questa BF Weevil la versione ovviamente di Benis è quella più veloce del gioco vi ripeto più veloce del gioco si intende top speed se cercate una qualsiasi classifica online ve la dà come prima con le modifiche di Benis 980.000 dollari e con le varie modifiche freni, motori e via dicendo diventa il veicolo con la velocità massima migliore in sintesi soprattutto vi ripeto su old gen quindi PS4 e Xbox One e addirittura PC perché PC ragazzi purtroppo non ha ricevuto l'aggiornamento next gen quindi in questo momento è ancora old gen in ogni caso è un veicolo con cui potete stupire i vostri amici visto che per qualche strana ragione va più veloce di altri veicoli normali che dovrebbero essere effettivamente veloci che costano un sacco su GTA Online ve li fanno pagare tipo 2-3 milioni e poi prendete una BF Weevil ed è effettivamente più veloce la BF Weevil quindi sarebbe anche un buon veicolo per trollare i vostri amici come vedete è abbastanza veloce non è male e vi ripeto su old gen è tra i veicoli più veloci del gioco soprattutto è quello con il top speed migliore quindi se la sapete utilizzare diciamo che gli altri avversari si mangeranno la polvere e poi passiamo alla Grotti Italy GTO Stinger TT come vedete si trova nella sezione Legendary Motorsport tre porte come vedete eccola qua Grotti Italy GTO Stinger vi esce subito costa insomma un po' perché comunque sono 2 milioni 380 mila dollari però è effettivamente il veicolo più veloce che abbiamo su Next Gen quindi PS5 Xbox Series XS chi ha ovviamente la versione Next Gen di GTA Online e può mettere le modifiche di house su questo veicolo lo trasformate nel veicolo più veloce del gioco costa perché per carità vi costa fare tutte queste modifiche e acquistare anche il veicolo però secondo me ne vale la pena per il semplice fatto che è il veicolo più veloce del gioco quindi se lo volete ragazzi dovete spendere tutto qui quindi è anche bella perché comunque è un bel veicolo ha diciamo abbastanza modifiche le livree secondo me sono molto molto carine e come vedete fa anche questo sound veramente fantastico non so se lo potete sentire direttamente dalla clip però comunque è bella quindi secondo me è da comprare spendere questi soldi poi passiamo agli elicotteri quali elicotteri comprare io non sono un grande fan degli elicotteri visto che comprate la mk2 spendete un po' di più e avete risolto il problema però comunque se volete un elicottero secondo me lo si il si sparro che sarebbe questo qui come vedete lo sparro normale comprato però sul cosatka quindi non su un veicolo normale che mettete nell'hangar ma direttamente nel cosatka perché lo potete anche richiedere come vedete tramite il menu interazione del cosatka come veicolo del moonpool perché ve lo consiglio e ve l'ho sempre consigliato per il semplice fatto che è comodissimo per appunto fare il colpo a caio perico le preparazioni ovviamente del colpo a caio perico come vedete potete metterci anche missili che sono comodissimi e vi fa ciò che non fa la oppressor mk2 ovvero atterrare sul cosatka ad entrarci direttamente si alcuni ci atterrano comunque la mandano al deposito eccetera eccetera ma poi c'è il discorso del cooldown che potete richiedere un oppressor ogni 4 minuti invece col si sparro non avete questo problema e quindi come vedete anche i diffusori insomma per evitare di essere distrutti da altri giocatori secondo me è da comprare e poi concludiamo con un jet visto che molti di voi me l'hanno chiesto ma alla fine qual è il jet che utilizzi di più su gt online vi ripeto è una cosa che preferisco io diciamo e io preferisco utilizzare l'f160 raiju che è il nuovo jet costa come vedete prezzo speciale 5 milioni se fate i colpi con l'avenger quei nuovi tra virgolette colpi che hanno aggiunto ad agosto quindi l'anno scorso praticamente e niente se comprate questo veicolo questo jet secondo me fate un bel acquisto perché lo pagate relativamente poco visto che lo scontano anche spesso ha delle levere molto carine tra le varie funzionalità la funzionalità stealth può ovviamente volare in verticale può ovviamente volare in orizzontale normalmente ed è veloce ovviamente da quello che so io i competitive players e tutta quella gente lì non lo utilizza particolarmente il P99 laser rimane tra i migliori da utilizzare a quanto so io però onestamente io da giocatore normale mi trovo molto meglio con questo perché è più stabile si controlla meglio tutto qui anche se nelle missioni devo essere onesto non lo utilizzo mai però per chi volesse appunto un jet questo qui secondo me è il migliore ovviamente ragazzi spero che questo video vi sia stato utile fatemi sapere la vostra top 10 nei commenti specificando su quale piattaforma siete vi ringrazio veramente tanto per la visione noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti